buongiorno sono l'architetto federico sanguinetti mi occupo di cantieri edili mi occupo di eseguire i rilievi sui fabbricati per verificare le patologie di dissesto e degrado e da qualche mese mi sto occupando del super bonus 110 applicare il super bonus 110 a un fabbricato vuol dire poter eseguire l'efficientamento energetico del fabbricato questa verifica si esegue tramite gli atti legittimanti del fabbricato reperibili presso il comune e si esegue una verifica tramite rilievi con il fabbricato esistente per eseguire questo tipo di verifiche di rilievi sostanzialmente devo dire che ho trovato molto utile lo strumento della leica che è il blk 3d c'è uno strumento che si aggiunge al blk che è il dst 360 e devo dire veramente strepitoso perché tramite quello strumento ci dà la possibilità quando abbiamo veramente pochi dati del fabbricato dobbiamo fare tante verifiche di crearci il rilievo dell'intera facciata o addirittura se siamo in interno crearci il rilievo partendo dalla pianta del 3d interno del nostro appartamento del nostro vanoscale o quant'altro con il dst 360 il blk sto cercando di capire se le dimensioni di questo fabbricato sono come gli atti legittivanti che ho il mio possesso quindi prenderò la lunghezza poi la profondità e poi quest'altra lunghezza sufabbricati non eccessivamente voluminosi è molto facile da vedere dove probabilmente molto utile la funzione reality capture. Impostiamo la funzione reality capture e facciamo una passeggiata per il perimetro del fabbricato. Questo mi permetterà di raccogliere quei dettagli che nei rilievi solitamente si tendono a dimenticare. Devo dire che l'utilizzo di questo strumento mi ha semplificato di molto sia a me che ai miei collaboratori l'attività per gli studi di fattibilità riconducibili al super bonus 110.